Buonasera, 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 sono Leone, 14.35, De Magistris presenta, Ascione, Corriello, Carmanese, Capasso, Coccia, Iomino, Lanzotti, Assente, Lebro, Lettieri, Assente, Intrascione, Madonna, Madonna Cera, Assente, Massueto, Assente, Marrazzo, Presente, Bascolo, Assente, Moretto, Assente, Punto, Presente, Pace, Presente, Palmieri, Palmieri, Assente, Vettoliero, Asente, Into, Into, Assente, Scampano, Troccone, Troccone, Assente, Lucillo, Assente, Juliano, Presente, Presente, Grazie. 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 Prego, segretario. Grazie, Presidente. Sì. Ore 16.35. De Magistris, presente. Ascione, presente o no? Assente, tanto. Assente. Avitabile, presente. Borriello, presente. Calvanese, assente. Capasso, presente. Coccia, presente? Sì, è presente, anche se non mi ascolta. Coccia, presente. Ghevino, presente. Sì, sì, posto. Lanzotti, assente. Lebro, c'è? Presente. Ascione entra. Ascione entra. Lettieri, assente. Madonna, assente. Mansueto, assente. Marrazzo, presente. Mascolo, assente. Moretto, assente. Mundo, presente. Pace, presente. Palmieri, assente. Pentoriero, presente. Pinto, assente. Sgambati, no, scusate, non è ancora entrato in aula. Troncone, assente. Tuccillo, assente. Uliano, presente. Presidente. Sono assenti... Assenti tredici. Assenti tredici. Assenti tredici. Assenti undici, Presidente. Allora, non c'è il numero legale, quindi dobbiamo interrompere e sospendere la seduta. e procederemo a una nuova convocazione. Grazie. 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 Grazie.